salve a tutti bentornati al mio canale l'argomento di oggi è già stato fatto ripetuto riscritto rieditato però è un argomento che spesso è anche causa di mail che mi vengono inviate di alarmismo da parte delle persone anche perché in parte vi è ragione nell'avere di timore il dolore al testicolo qual è la causa allora non voglio semplificare ma i pochi minuti di attenzione che abbiamo nei video mi obbligano ad essere molto sintetico innanzitutto consideriamo l'organo il testicolo il dolore può avvenire per una banale infiammazione infezione di una piccola struttura che è l'epididimo dove maturano gli spermatozoi che è collegato al testicolo e che può risentire di processi infiammatori infettivi della prostata voi direte che cosa c'entra adesso la prostata col testicolo il testicolo è collegato alla prossa attraverso il dotto deferente tanto che il liquido seminale composto da spermatozoi testicolo liquido prostatico e il liquido delle vescicole seminali quindi è un sistema interconnesso è chiaro che una prostatite o vescicolite può dare quindi un dolore testicolare poi ci saranno delle caratteristiche specifiche per ognuno di queste patologie anche una sub torsione quindi una torsione improvvisa del testicolo può evocare dolore un testicolo un po più piccolo eccessivamente mobile può dare questo tipo di fastidio spesso notturno quando siamo sdraiati che non deve se così fosse arrivare alla torsione completa la torsione dolore molto acuto da pronto soccorso se non trattate entro le 6 8 ore porterà un chiamiamolo soffocamento del testicolo che si torce sul suo asse non riceve più sangue arterioso e quindi va incontro proprio a una vera e non è così a un infarto testicolare ci sono poi dolori da varicocele il paricocele e questa componente collegata a una alterata vascularizzazione del testicolo le vene spermatiche sono dilatate via minor ossigenazione maggiori cataboliti quindi sostanze di scarto che causano chiaramente uno stato infiammatorio cronico con liberazione di citochine e fattori che sono anche responsabili del dolore locale il più dolore da varicocele più un senso di peso un fastidio più che il dolore acuto della subtorsione delle pitidimine tra volta non si trova nulla di questo allora dobbiamo un pochettino salire su quelle che sono le strutture collegate anatomicamente al testicolo una punta d'ernia nel canale inguinale può comprimere le fibre nervose che vanno chiaramente al testicolo o anche una pubagia spesso può essere cambiata scambiata per un dolore urologico come sofferenza delle fibre nervose sensitive che innervano il testicolo qualche per esempio fibra periferica del nervo pudendo e allora lì dobbiamo fare uno studio più alto andiamo a studiare il bacino e la colonna andiamo a cercare nei casi che non trovano soluzione dove giriamo 3 4 5 specialisti anche il percorso del nervo pudendo magari è impigionato no a livello del forano otturatorio non entro nei meriti specialistici ma insomma spesso queste strutture vanno a comprimere le fibre sensitive danno quelle sindrome del dolore pelvico cronico che si possono anche manifestare con un dolore testicolare quindi vedete sono tante le patologie che possono purtroppo farci avere un dolore testicolare non ho nominato per mia indole forse egoistica escludo le patologie più serie però mi è capitato talvolta di trovare un tumore del testicolo quindi quando abbiamo un testicolo che si fa sentire e buona cosa rivolgersi immediatamente al proprio andrologo fare in pochi minuti un ecografia che ci dà tutte le risposte spesso sono di conforto sono tranquillizzanti ma non portiamoci dietro un dolore di un organo che è molto importante per la fertilità per la sessualità e anche chiaramente in caso di patologie gravi per la vita stessa con questo vi saluto auguro a tutti una buona ottima giornata e ci vediamo al prossimo video ciao